Amiche e amici dell'Olimpia Volley, buonasera, bentornati. Questa sera era d'obbligo, qui accanto a me c'è Luca Mantohan, nuovo allenatore della formazione che affronterà la Serie B2, la PSA Olimpia. Luca, intanto ti chiedo, per quelli che magari non ti conoscono, che ti conoscono poco, di presentarti un pochino sia da giocatore, la tua carriera da giocatore, che la tua carriera da allenatore, per sommi capi. Allora, per sommi capi, da giocatore, io sono cresciuto a Torino, poi ho fatto la mia bella carriera in A2 e poi culminata in A1, con una piccola convocazione nel lontano 1993 in nazionale. E poi sono venuto, o poi sono sceso a giocare in B1 e sono arrivato a giocare in Liguria nel 2002. Ho giocato ancora fino al 2009, poi mi sono messo ad allenare. Ho allenato qua in Liguria, tranne una parentesi ad Alba. Fortunata, direi. Una parentesi fortunata, un paio d'anni ad Alba. Ho allenato quasi sempre i maschi. Adesso, quest'anno, ho cominciato ad allenare ad Alassio, tra l'altro, che ho abbandonato in corsa. Dunque, di questa cosa qua mi ha lasciato un po' così, la mare in bocca. Comunque ringrazio in particolar modo la società di Alassio che mi ha permesso comunque di venire qua a Voltri. E basta, insomma, la mia carriera è questa, non è niente di più. Però io vanto una marea di esperienza in A1, in A2 e anche in Serie B. Dunque ho una visione ampia. La mia carriera della nazionale non è cosa da poco. Diciamo che nell'epoca della generazione dei fenomeni, io ero l'ultimo dei fenomeni. Insomma, hai detto poco. Ero lì e tentavo di stare attaccato al carretto. Senti, invece scendiamo un pochino, arriviamo ai giorni nostri, diciamo così. Scendiamo un po' nel clima Olimpia, ovviamente ancora presto, hai pochi allenamenti con le ragazze. Che idea ti sei fatto della rosa a tua disposizione e del potenziale che questa rosa può avere? Allora, le ragazze sono molto disponibili. Devo ancora capire bene, insomma, la gerarchia che c'è all'interno della squadra. Però le ragazze si sono messe a disposizione, hanno voglia di fare. In questo momento, chiaramente c'è stato un cambio dell'allenatore. Si erano un pochettino incartate, per così dire, nelle loro difficoltà. E adesso, insomma, vediamo. Non ho progetti in questo momento a lunga scadenza. Le devo anche conoscere, le devo anche vedere come reagiscono, come reagiscono al mio lavoro. E soprattutto al mio modo di vedere la pallavolo. Che non è proprio così usuale. Cioè, io sono cresciuto con una certa idea di pallavolo. E quella faccio. Non è che faccio la pallavolo che c'è scritta sui libri. Faccio la mia pallavolo. Che non è poco. Senti, invece, parlando della partita che ci aspetta. C'è una partita importante. C'è un derby, quindi subito a mille, a bomba, a martello, come diciamo il presidente Parodi. C'è un derby contro la Normac, sabato. Da giocare. E chiaramente nessuno ci sta a perdere un derby. No, nessuno lo vuole perdere. Cioè, in linea generale è una partita come un'altra. Però sappiamo benissimo che non lo è. Però io confido nel fatto che comunque loro abbiano coscienza delle cose che devono fare. Indicazioni ce ne saranno per rendere al meglio. E dunque bisogna, in questa fase qua, cambio allenatore, bisogna un attimino, come dico io, dare un giro. Cioè, bisogna fare un giro a 360 gradi e avere una visione diversa delle cose. Non ci sono tanti segreti. Però questa cosa qua, insomma, toglie un po', diciamo, un po' di pesantezza che sarà creata in questo ultimo periodo. Benissimo. Allora, io ti ringrazio. Ti faccio tanto in bocca al lupo, ovviamente, sia per la partita di sabato che poi per il prosieguo della stagione. Tanto c'è da chiudere questo girone d'andata con le ultime partite che saranno ovviamente difficili e importanti, no? Allora, girone d'andata sicuramente queste due partite sono il mini obiettivo che mi siamo dato. Poi c'è una pausa, in questo momento di pausa qua cercherò di fare digerire alle ragazze alcuni cambiamenti, ok? Che voglio apportare alla squadra e poi ripartiremo e a quel punto lì bisognerà dimostrare veramente la nostra forza. Questo perché l'Olimpia non è più una sorpresa, il girone di ritorno ti conoscono già e dunque lì dimostreremo il nostro vero valore. Benissimo. Allora, ti ringrazio molto Luca, buon lavoro e che dire, ci vediamo sul campo. Grazie. Arrivederci a tutti. Grazie.